Nuovo video, Michele, il mio trasferimento in Svizzera, come sempre vi ricordo che siamo un canale di comunicazione della nostra società di consulenza che si occupa di assistere imprenditori, manager, libri professionisti in particolare per trasferire la propria residenza personale e familiare in Svizzera quindi per tutti gli aspetti burocratici, logistici e di consigli vari che possono essere utili in questo senso. Oggi voglio parlarvi di qualche cosa che è difficile in questo momento da prevedere ma mi sento di darvi una mano a vedere le cose da una prospettiva un po' diversa rispetto al futuro che ci aspetta. Come vedete nell'ultimo anno, anzi due anni ormai, la situazione della nostra vita quotidiana è molto diversa da quella che era appunto fino all'inizio 2020 quindi ci sono tantissime restrizioni alla libertà, al movimento, al viaggiare, allo spostarsi eccetera e questo è stato giustificato da chi governa e quindi da chi è stato eletto nei paesi democratici come tutela nei nostri confronti per proteggerci da questo virus, questa pandemia. Ora, senza entrare nel merito di quello che sono le misure attuali perché appunto non è il canale per parlare di questo e non ne voglio parlare, comunque sapete anche attraverso i miei post come la penso io personalmente e anche noi a livello proprio di nostra società però appunto non è questo il momento di andare ad affrontare questa cosa perché non è neanche quello di cui ci occupiamo però vorrei utilizzare la situazione attuale per capire come riuscire a orientare, a preparare anche strategicamente il vostro futuro e nel dettaglio il vostro trasferimento fuori dall'Italia o da qualsiasi altro paese da cui volete uscire per venire in Svizzera ovviamente se avete l'intenzione di venire in Svizzera perché se volete andare in Mongolia ovviamente non è il canale giusto però magari questo video può essere comunque interessante per orientarvi e avere un po' la visione a breve, medio, lungo termine rispetto a quello che potrebbe succedere. Allora, qui ci sono dei problemi appunto molto ormai palesi di restrizione della libertà individuale, della libertà di spostamento anche della libertà se vogliamo di impresa perché ci sono delle attività che hanno avuto tantissime restrizioni e quindi in qualche modo hanno avuto delle ripercussioni pesanti sulla possibilità di accedere al mercato, accedere ai propri clienti liberamente come è sempre stato. Quindi questo ci porta a una riflessione su quello che potrebbe succedere un domani perché oggi fortunatamente ci si può ancora spostare più o meno facilmente perlomeno in Europa però non è detto che questo possa succedere domani quindi il primo problema a cui dovete pensare ed è quello che vi ha portato probabilmente come errore a essere nella situazione in cui siete oggi se siete lì in Italia bloccati dicendo ma com'è possibile che siamo finiti qui bisogna andare a cercare di cogliere quei segnali e prevedere i problemi che possono esserci perché in Italia non è va bene adesso in questo momento la situazione è particolarmente difficile ed è uno dei paesi al mondo tolta Australia eccetera in cui comunque ci sono più restrizioni al perlomeno in Europa restrizioni pesanti che vanno proprio a limitare molto la libertà di ognuno ma e questo è un dato di fatto eh non sono favore contro è un dato di fatto è così però a prescindere da questo già prima del covid si potevano avere dei segnali del fatto che l'Italia fosse un paese in qualche modo in declino dal punto di vista fiscale dal punto di vista dell'attirare noi imprenditori attirare un'immigrazione qualificata e via dicendo quindi c'erano già tanti segnali che potevano portare a capire che se ci fosse stata un'emergenza magari l'Italia non sarebbe stato il paese giusto nel quale trovarsi in quel momento quindi in questo momento dobbiamo cercare di fare un po' lo stesso esercizio andare a capire cosa potrebbe succedere ancora di peggio un domani e questo potrebbe aiutarvi a evitare di procrastinare o sperare che si ritorni dove eravamo prima perché se volete la mia credo che sia complicato che si torni rapidamente a dove si era prima perché comunque molte delle restrizioni rimarranno o comunque verranno trasformate in un altro senso quindi andiamo a vedere un attimo i problemi che potrebbero esserci a breve, medio e lungo termine rispetto a questo il primo problema è quello proprio dell'uscire dal paese proprio in questi giorni sono state messe delle restrizioni e delle limitazioni per l'utilizzo dell'aereo anche sui voli nazionali non è detto che a un certo bel momento vengano messe delle restrizioni proprio per varcare la frontiera relativamente a restrizioni sanitarie o restrizioni di qualsiasi altro tipo perché ormai diciamo è un'emergenza continua se oggi è appunto l'emergenza sanitaria o domani potrà essere l'emergenza climatica l'emergenza di qualsiasi tipo ovviamente con poco contraddittorio quindi non ci sono partiti o non ci sono movimenti che hanno la forza di opporsi a bisogna fare così perché se no finiremo tutti male quindi c'è una sorta di partito unico e anche di comunicazione unica a livello di media che va in quella direzione quindi se succederà la stessa cosa per un qualsiasi altro un'altra ragione ovviamente il governo si sentirà autorizzato a fare quello che vuole fare e non è necessariamente nei nostri interessi ma è nel suo interesse chiaramente quindi il primo problema che ci potrebbe essere è proprio il problema a uscire dal paese quindi se in questo momento voi potete ancora venire in Svizzera trasferirvi in Svizzera togliere la vostra residenza dall'Italia perché andate a abitare in un altro paese non è detto che un domani questo possa essere possibile e quindi è qualcosa che ovviamente dovete mettere in conto e valutare molto attentamente anche relativamente alle tempistiche in cui vi state valutando di uscire dall'Italia in questo momento quindi io vi dico andate di fretta perché non può migliorare la situazione da quello che è la mia previsione ovviamente non ho la sfera di cristallo e spero anche di sbagliarmi perché se si torna dove eravamo prima va benissimo però purtroppo lo dubito il secondo problema può essere invece oltre che spostarsi proprio personalmente potrebbe essere spostare quello che sono i propri beni quindi il proprio patrimonio quindi magari ci si può spostare ma non ci si può portare dietro quello che si ha nel conto bancario perché il conto bancario viene bloccato oppure non si può vendere la casa a proposito di immobili l'Italia in questo momento è un paese ancora meno attrattivo di quanto era prima e quindi anche il mercato degli immobili non è detto che nei prossimi anni sia un mercato che si riprenda è da ormai un decennio che in Italia non si riprende quindi in questo momento in cui voi siete lì avete un immobile o comunque delle proprietà in Italia e state vedendo come fare eccetera probabilmente è il caso di velocizzare un po' le cose perché potrebbero essere delle complicazioni sia nel vendere o comunque nel valore che poi quelle proprietà avranno in futuro e questo dovete dovete assolutamente metterlo fra i vostri punti di considerazione per capire che cosa fare in questo anno nello specifico stiamo parlando del 2022 quando sto registrando questo video la terza problematica più a lungo termine quindi se le prime sono diciamo a medio breve medio l'ultima può essere nelle mie previsioni un po' più a lungo termine francamente spero che non mi debbano smentire diventi qualcosa di più immediato è quella della tassazione universale come sapete la tassazione per praticamente tutti i paesi del mondo tranne Stati Uniti e alcuni due o tre in Africa tipo la Liberia o l'Eritrea insomma non sono esperto di questo però ovviamente so che in Africa ce ne sono due o tre comunque a cui noi insomma siamo poco interessati però gli Stati Uniti invece è un paese importante per tutto il resto dei paesi la tassazione è su base territoriale quindi sulla base di dove uno è residente poi ci sono anche quelli con base non territoriale nel senso che uno può essere residente ma tutti diciamo tutto il reddito che proviene dall'estero non è tassato ma non entriamo in questa logica entriamo nella logica che se io abito in un posto sono tassato in quel posto lì ok? E questo è così anche per l'Italia quindi se io italiano sono abitante e residente in Italia vengo tassato in Italia se io italiano sono residente in Norvegia, in Svizzera o in Malesia vengo tassato rispetto al mio luogo di residenza io credo che purtroppo in futuro ci possano aspettare delle novità rispetto a questo perché molte persone se ne andranno e quindi il famoso Stato che fa di tutto per noi avrà bisogno di andare a reperire delle risorse che magari non basteranno più provenienti dalla tassazione sul proprio territorio e quindi cercheranno di andare a in qualche modo recuperare qualche cosa rispetto proprio a chi ha la cittadinanza e no a chi ha la residenza in quel paese e questo ci porta a una considerazione rispetto al fatto che uno in questo momento storico soprattutto chi è imprenditore o libro professionista e quindi abbia la possibilità di spostarsi con relativa facilità lo debba fare e lo debba fare anche considerando quello che può essere un futuro secondo passaporto perché nel caso in cui ci sia magari da parte dell'Italia una svolta rispetto alla tassazione universale spero di non dare idee a nessuno però è purtroppo qualcosa che dobbiamo mettere sul tavolo e considerare avere una seconda cittadinanza ci permette in qualche modo se possiamo rinunciare a quella poi italiana per evitare di essere tartassati anche quando non siamo più lì è qualcosa che ci può salvare veramente veramente la nostra attività la nostra vita e il nostro futuro quindi la Svizzera in questo senso è qualcosa sicuramente di interessante non si può comprare la cittadinanza svizzera come in altri paesi ci sono dei paesi in cui o tramite investimenti o proprio in cash si può acquistare la cittadinanza ma al solito non sono paesi diciamo particolarmente importanti o attrattivi poi a livello internazionale mentre la Svizzera lo è e la Svizzera ha un processo di cittadinanza in questo momento che dura almeno dieci anni nel senso che bisogna essere residenti dieci anni in Svizzera poi magari ne parliamo in un altro video proprio su questo e quindi più tardi venite qui più tardi questo processo inizia e più tardi potrete richiedere la cittadinanza svizzera quindi questo vi deve portare a fare una riflessione e accelerare i tempi rispetto al vostro trasferimento quindi questi sono i tre punti che bisogna prendere in considerazione in questo momento e data la situazione in cui soprattutto chi ancora sta in Italia si trova direi che sono dei punti che vi devono far muovere e che vi devono far accelerare assolutamente il processo di trasferimento quindi chiedete la consulenza preliminare come ricordo è una consulenza a pagamento però in cui già vengono date molte informazioni quindi si viene seguiti e si va a approfondire in maniera attenta quale può essere il piano di trasferimento quindi chiedetela vi lascio il link qui sotto chiedetela facciamo la consulenza preliminare poi programmiamo insieme il vostro trasferimento perché dovete andare dove siete trattati meglio alla prossima